Ciao Joe, adesso ti dirò più o meno come andò a strutturare il multiple, allora devo fare ancora la free, quindi molto probabilmente te la lascerò registrata, così nel caso la potrei mettere da qualche parte, per ora sto riprendendo le ricompense della Feo 10, che raga veramente è una cavolata in mane. Allora, l'obiettivo è Kaius, teoricamente è un banner in cui io non pullerei mai perché ho Lys completa, Noel completa, mi mancherebbe soltanto Kaius, il problema è che Kaius è un preferito, quindi si pulla fino alla morte, mia ovviamente. Quindi, ah che bello, argentino sarà l'ex di Noel, guarda ne sono sicuro, questa sarà la mia fortuna. Allora, prendere la ex di Kaius più o meno intorno alle 40k, significa per me andare fino alle 50, per... Vabbè, il titilino è completo, vai, 3 power, sono easy. Allora, arrivare alle 50, per prendere il libro, per comunque spendere 5.000, 10.000 gem in più. Eeeeh, addirittura, io me lo sento che avrò tipo 4-5 ex di Noel, me lo sento, come nell'anima. Nell'anima del mortage. Vabbè, gli argentini, gli argentini, l'argentono, un'oro. Vabbè, Cater è questa, che schifo è. Noel, oh vabbè, cioè, io non voglio dire niente. Cater, grazie Cater, puoi ritornare nell'inferno da qui ti ritrovi. Cioè, tra l'altro neanche inconnette, quindi 0 armi di Kaius per ora. Che, eh, cazzo, cazzo, cazzo. Cioè, più che altro non è un problema, perché comunque sto sulla cinquantina di Powerstorm, quindi... Diciamo che posso prendere la 15 dall'evento, la 35 già la posso stoppare, mannaggia l'isabetta qua. Ah, mannaggia la miseria. Oh, inconnetti, sarà la 15 di Kaius. Allora. Mè, su, 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 su. E dopo questo iniziamo a modificare le multe ai PG del Discord, del Telegram, così fa più destegnare e quindi ringraziare. Un argentino. Un argentino. Pasarella. Eccola, fa la 15 di Kaius. L'avevo detto. Eee, Kaius, amico mio. Allora. Eee, addirittura. E' così bello, 710. Vabbè. Allora, questa la dedico a... Giuggev, chi ha sculato Kaius. Allora. Dai, Giuggev, porta fortuna. Forza, fammi risparmiare almeno. Cioè, Giuggev vuol dire tanti argentini. O argentoni. Oh, mamma mia. E man, mancano le gioie levi e sta così tanto argento. Di satetta. Di satettone. Vabbè. Allora. E' pieno già. E mamma mia. Manca per iniziare. Ah, vabbè. Anche per tempo io l'ho tirato a 40 ticket. Una ex di Shadows, la ex di Hope. E la ex di Exnet. Quindi, teoricamente, andare al P.T. ci sta. Perché come se... Più o meno, per me, ci sta. E' un'unica cosa che mi dà fastidio andare al P.T. Ogni volta con un personaggio che mi piace. Eh, vabbè. Questo è un altro discorso. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po'. Allora, se non so già che vi dico. Allora, non sarà che il discorso del Telegram. Voglio proprio rovinarmi questa... Quella morta. Non devo ammettere il fatto... Che tu puoi evocare... Anche se è l'inventario pieno. Eh. Se non stai a clearare ogni volta. Ma... Via. Questa la dedico al Jetpack. So... Allora. E' un altro Danke Rushion. E' un altro Ridgepack. E' un altro Silver. E' un altro Silver. E' due Silver. E' un oro oii. Braga! Penelio! Penelio! Beh, mi prendo la Power Stone. shop la 35 dal weapon token quindi vuol dire che devo aspettare la mannaggia devo aspettare un po' per prendermi la volevo prendermi l'arma voi di hope volevo prendermi l'arma voi di hope però sto a 6 a 6 35 di Caius allora facciamo subito così grazie a tutti per aver visto il video seguite Joe e boh ciao 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 ciao